Una di queste è a cosa serve la musica, a cosa servono le canzoni, popolano così tanto la nostra esistenza e non sappiamo neanche cosa sia. E per capirlo dovremmo capire che vibrazioni producono su di noi, che cosa producono su di noi, sui nostri corpi, perché le canzoni producono un effetto sul corpo. Essendo musica, la musica è un fatto fisico che arriva e attraverso i corpi. Questa è una canzone, per così dire, d'amore attraverso la vibrazione. Grazie a tutti. Cadi sul letto Ed è già sera Il sole muore Solo per noi La musica è sempre Del tuo incarnato Il sole muore Perfetto L'ombra perduta Dei nostri corpi Scolte lo spazio accanto a noi Nel breve viaggio Tra te la mia vita Consuma l'ultima luce per noi Tra te la mia vita 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 L'ombra perduta Tra te la mia vita Tra te la mia vita Che goccia a goccia Scolta da noi Le nostre gambe Di sangue e di cielo Che goccia a goccia Tra te la mia vita 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 Grazie 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 Qualcuno sa come dire questa mostra Di non disturbarmi questo esibito Grazie